quindi adesso hai attivato il position hold e lui vola da solo? resta fermo da solo in questo caso con le limitazioni dalle condizioni meteo perché oggi il meteo non è un granché vero? sul pendio insomma non è proprio il massimo volare con multirotori multirotori da pendio ancora non ne hanno fatti però è da sperimentare è fattibile